Abbiamo già mandato distanze di scaccia l'azione, ci resti poco qua dentro, vincere? Strappala, io qua dentro ci resto fin quando lo dico io. Ma che dici? Tenga facca dentro. Non ho capito? Io qua ci resto fin quando lo dico io. Tenga facca dentro. Non mi riconosci di Sanco? Sono Rosariccio. Andiamo, forza! Ci vediamo. Eh, non mi riconosci di Sanco? Sono Rosariccio, la sorella di Ciro. Non c'è, vieni. Sia, sono Rosariccio, vieni. Guardate, guardate, guardate! Grazie a tutti. Grazie a tutti.